Al Bianchelli il derby tra Vigor, Senigallia e Forza Empronese termina in parità dopo 90 minuti avvincenti e combattuti ben giocati da entrambe le squadre per un 1-1 che non ha fatto mancare le emozioni. Entrambe reduci da un pari con un punteggio identico a quello odierno, la Vigor in trasferta contro Roma City, la Forza Empronese in casa contro la capolista Campo Basso, per questa gara i due tecnici devono fare i conti con diverse assenze. Clementi è costretto a rinunciare a Capitan Pesaresi e Romizzi, Fucili deve ancora fare a meno di Casolla e Conti. Squadre subito pimpanti al calcio inizio, ritmo intenso con emozioni che arrivano presto. Al terzo, Keriota si infila in aree nei pressi e la linea di fondo finisce a terra dopo il contatto con Urso. Proteste Rosso Blume, il direttore di gara Masi di Pordenone lascia correre. La Forza Empronese non resta a guardare e si affaccia in avanti al quinto. Palazzi mette al centro la destra, Fagotti di testa gira alto di poco. Sul ribaltamento di fronte, Schaeffer pennella al centro per Viglioni, che spreca colpendo male. All'ottavo, Keriota sguscia via di nuovo alla guardia della difesa bianca-azzurra e libera un sinistro potente. Marc Antonini risponde da campione. La Forza Empronese trova il modo di contenere meglio il fantasista Rosso Blu, evitando di farsi schiacciare alla pressione dei padroni di casa. E dopo la fiammata di emozioni iniziale, anche se l'intensità resta elevata, per annotare un'altra occasione bisogna arrivare al ventiguesimo, quando Schaeffer, ben servito dal cross da destra di Keriota, si avventa in area sul pallone a deviare il suggerimento del compagno, ma spedisce tra le braccia di Marc Antonini. Gli ospiti tornano a farsi minacciosi al ventisettesimo, con una punizione da posizione defilata di Pandolfi. Roberto non si distrae e respinge. Complice il gran caldo, con il passare i minuti i ritmi scendono e la prima frazione non regala altre emozioni fino al riposo. Dopo l'intervallo, i due tecnici non operano cambi e la Vigor prova subito a rialzare il ritmo. La Forza Empronese però contiene con ordine senza correre particolari rischi, fino al quarto d'ora quando Schaeffer indirizza un traversone teso verso il secondo palo per Viglioni, che però sciupa. I biancazzurri non si spaventano e tornano ad affacciarsi in avanti, cogliendo in maniera un po' inaspettata il vantaggio al ventunesimo. Nella mischia davanti a Roberto sul corner da sinistra di Pandolfi è Urso a spingere il pallone oltre la linea bianca, nonostante il tentativo in extremis dei rosso-blu di evitare il gol, che permette ai ragazzi di Fulcili di portarsi in vantaggio. La Vigor reagisce subito, ma gli ospiti riescono a contenere senza correre veri rischi. Al ventiseiesimo si vedono annullare da Masi la rete di Fagotti, brava ad arrivare per primo sulla respinta di Roberto alla rasoiata al limite di Bucchi, ma secondo la Terna partendo in posizione irregolare. Passano un altro paio di minuti e dal possibile 0-2 si passa all'1-1. Ballello approfitta di un errore difensivo dei biancazzurri per lanciare in verticale Keriota, che controlla bene e si presenta solo davanti a Marco Antonini, battendolo con un preciso tocco in diagonale che ristabilisce la parità. La Vigor insiste, provando a sfruttare il predominio territoriale per costringere i meta-urrenzi ad arretrare. La forza impronese contiene, provando anche a ripartire nonostante resti in inferiorità numerica 10 minuti al novantesimo per la seconda munizione rimediata a Rovinelli. A due minuti al termine la chance del colpaccio capita sui piedi del neoentrato Calvosa, che calcia a colpo sicuro dopo essere stato ben servito in area, ma trova sulla sua strada Scheffer che salva la porta ribattendo la conclusione. L'esito della gara resta incerto anche nei sei minuti di recupero accordati a Masi, che proprio prima il triplice fischio finale sorvola sulla caduta in area di Broso lanciato verso la porta avversaria, scatenando le proteste di Rosso-Blu, che proseguono anche dopo la fine delle ostilità con Cambini, che esagera e si vede sventolare davanti al direttore di gare il cartellino rosso, evitabile dopo un 1-1 piacevole e divertente, che avvicina di un altro passetto le due squadre ai rispettivi obiettivi. Nonostante la temperatura in campo abbastanza alta, credo che le due squadre hanno dato vita a un match estremamente combattuto dal punto di vista fisico. Non era facile per nessuna delle due compagini dare una continuità alla manovra, perché eravamo sempre entrambi molto aggressivi sui palloni. Credo che il risultato di parità sia da accettare assolutamente, sia anche giusto. Credo che in mezzo al campo ci sia stato fondamentalmente equilibrio. Noi sicuramente non siamo stati nella nostra miglior giornata negli ultimi 30 metri, perché per il resto siamo stati sempre molto ordinati e bravi a costruire le nostre manovre, come di solito riusciamo a fare, però la differenza l'abbiamo sempre fatta poi nella parte finale, negli ultimi 30 metri, dove oggi i nostri avversari sono stati sicuramente molto bravi a contrastarci. Quindi abbiamo faticato più del dovuto, siamo andati sotto e la squadra mi è piaciuta nella reazione e nella voglia di andare a recuperare. Sì, è stata una partita dove noi abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare. Di conseguenza solo questo ci deve dare fiducia nel proseguire il nostro percorso, che chiaramente sarà di lotta fino all'ultimo secondo. Però i ragazzi veramente anche oggi hanno dato l'anima ed è chiaro che la partita è stata difficile, però lo sapevamo, a tratti meglio la Vigor, a tratti meglio noi, molto combattuta. Grandissime occasioni non ci sono state, è chiaro che entrambe le squadre magari rammaricano su alcune situazioni e ognuno si tiene le sue. Chiaramente anche l'occasione che abbiamo avuto con Calvosa, penso al novantesimo, insomma, poteva far cambiare la partita, però ho detto questo, ripeto, ognuno la vede come giusto che sia e io guardo la mia squadra e, ripeto, più di questo facevamo fatica a fare.